Come avrete visto sono riuscito a salire 1,85m durante una sfida Quasi un record del mondo Ecco però appena tornato a casa ho voluto subito provare qualcosa di più alto La tecnica è totalmente diversa Ho sfruttato quel dentino dell'ostacolo per agganciarmi E poi bisogna tirarla su Altro tassello molto importante però ci sono riuscito Sapete quanto misura? 2,03m Il record è di 1,86m Quindi Gino 1, rock on!